Ma come individuare quello di cui hai davvero bisogno? Magari ho solo un periodo, o magari dura da tempo, ti senti svuotato, deconcentrato, non riesci a portare a termine, gli attacchi di panico sono più frequenti, così come i pensieri malzani, quelli che in qualche modo ti sviano dalle cose che vorresti fare davvero. In questo caso quindi, che devi fare davvero? Fermati un istante, siediti e ragiona sulle tue priorità. In questo momento la tua priorità è recuperare te stesso, te stessa, e hai bisogno quindi di una guida che in qualche modo ti faccia tornare in controllo e in equilibrio. È tutta una questione di equilibri. È una questione di imparare a scegliere e a gestire le nostre priorità. Per cui oggi, carta e penna, e scrivi immediatamente qual è la tua priorità di oggi e attieniti a quella. Piccoli passi alla volta per poter andare avanti e non avere paura di chiedere aiuto, perché qui ci sono professionisti in grado di poterti aiutare e far tornare in equilibrio, perché non c'è niente di male ogni tanto a perdere la bussola. Grazie. Grazie.